... ... ... ... ... ... Beppe ha detto esattamente che se c'eri qui con i grillini quando io gli ho detto in Parlamento lasciate 5 di voi e tutti gli altri vanno nelle strade nei supermercati a parlare a fare il Parlamento con la gente che è la vera tentaria non del potere ma della potenza che riguarda la vita quindi il potere va abbandonato e la potenza va diventata non ci sono neanche delle grandi strategie infatti sono molto i grillini sulla sovranità individuale l'educazione è la sovranità individuale perché non è facile da servo passare alla consapevolezza di essere libero e prendersi quello spazio quella dignità e poi i co-sovrani che decidono di co-gestire la sovranità in un'ideale comunità sovrana la Valsusa è un esempio di una comunità sovrana violata dalla sua sovranità e che si è ribellata quindi c'è in giro una rabbia che io da Gandiano mi preoccupavo di dire possiamo orginarla e trasformarla in creatività se dalla protesta dobbiamo passare alla proposta ecco che immaginare una via intermedia una via da dove siamo adesso alla Ghirghisia che ogni comunità potrà essere libera di inventarsi ci sta una una speranza ma sai come è triste la sorte di chi vive sperando è una sorte triste e invece due anni fa io ho scritto a Beppe caro Beppe il nostro amico Mahatma Gandhi sosteneva che solo la gentilezza può modificare il mondo e lui due anni dopo Beppe mi ha risposto un sms che ho scritto sto seguendo un corso accelerato di Mahatma ma quando sono venuti a San Giovanni io ho mandato un sms a Beppe dicendo caro Beppe ti devo comunicare un fatto politico estremamente grave quest'anno le rondini non sono ancora arrivate le api stanno morendo le rondini allora il giorno dopo straordinariamente sono arrivate le rondini credenti farebbero assoluto nell'elenco dei miracoli ma in realtà sai cosa c'è di divertente che gli esseri umani cominciano a capire che non c'è più bisogno di lavorare e invece dell'angoscia del trovare lavoro pian piano vanno l'angoscia di trovarlo cioè non c'è più bisogno allora io veramente credo che lasciando in pace i bambini e organizzando con le mamme di portarli al parco invece che portarli a scuola dove le mamme si trovano per esempio di essere libere per cinque giorni ogni mamme perché trenta mamme io le ho organizzate così a Rimini trecenta famiglie allora su trenta bambini trenta mamme ogni giorno lunedì martedì mercredì giovedì venerdì sabato cinque mamme portano i bambini al parco e hanno anche un computerino che se un bambino mi domanda cos'è un batraco sbatraco rana ma in realtà i bambini devono solo giocare fino a 18 anni ma è così sclerotizzata la cultura corrente che persone che pensano che ma come allora un ragazzo di 15 anni deve giocare come i bambini no deve giocare come un carattere ma a 15 anni giocherà a cinema giocherà a teatro giocherà a letteratura giocherà a ballare ma il gioco è la cultura più antica è l'unica cultura da ristrutturare continuamente capito in questi giorni sta circolando la parola più odiosa che si sia mai formulata che è la parola riforma una parola che sottintende che tutto è stato sformato e bisogna ridare forma ma non si sa a che cosa è la stessa sostanza sformata ecco però adesso parte tutto ciò io trovo in questo piccolissimo luogo sfila l'umanità vengono a vedere i film e hanno delle reazioni molto 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 nuove molto interessanti per esempio tutte le volte che c'è un film che produce coscienza escono con gli occhi che brillano e mi danno tutti la mano fra l'altro danno un senso quasi di colpo sembra che l'ho fatto io il film ringrazio e allora questo non è mai non è accaduto mai prima e adesso quando noi dal 68 al 78 io andavo a filmare tutto perché c'era qualcosa di straordinario che accadeva mi sono sempre detto allora chissà che riflusso terribile che ci sarà tutto questo perché le strade non c'erano più le macchine c'erano gente che ballava facendo cose che il riflusso di quei dieci anni là sta durando da circa quarant'anni questi quarant'anni hanno cancellato tutto quello che si era conquistato allora meno l'incancellabile hanno cancellato la scala mobile hanno cancellato l'ecocanone l'ecocanone era che se uno era casa in affitto l'affitto non doveva costare comunque più del 20% di quelle coppie c'era tutto a posto hanno cancellato tutto ma c'è una cosa che non hanno potuto cancellare che è il principio di autorità che si è infranto in quei dieci anni e non c'è più nessuno neanche il più demente che pensa di restaurare l'autorità capisci quando parla del Presidente della Repubblica le sirene è patetico è patetica uno metto lì che si sta starando a piedi e viene ma sono uomini che hanno la stessa sclerosi delle istituzioni ma per questo io ma tu cosa vuoi esattamente dall'umanità dal mondo ma è che fossero felici sì ma questo è l'unico modo per volerlo che tu sia felice ma io sono felice perché non ho più casa me l'hanno opinionata l'ho venduta e ho pagato le banche di una cooperativa sociale di cui ho investito per vent'anni la mia vita per disperdere il patrimonio ho lasciato la mia pazza e restituirlo agli ultimi della Valsesia la comunità dove c'era questa cooperativa sociale adesso sono libero sono senza tetto nomade e ho una pensione sociale di 460 euro sto vivendo come vivono un milione di quelli considerati ultimi e ho amici case perché non mi faccio problema sto sereno come si dice ma è per questo che ho deciso di darmi a questa mission di aiutare questo movimento in un momento che sento fertile per l'immaginazione per la creatività per cominciare a creare una visione che è necessaria perché questi dalla rabbia dall'incazzatura dallo sputtanamento dell'avversario che è più o meno l'energia che adesso usano per vinciamo noi ma ci sono delle vanguardie ma cos'è che vincerebbe? no adesso ci sono delle vanguardie che vanno incoraggiate che dicono dobbiamo vincere tutti ma cosa vuol dire vincere? vuol dire che ci liberiamo dei vecchi schemi del vecchio paradigma e ce ne inventiamo noi cocreiamo un altro che sia giusto ma sì ma è come il muro di Berlino che siccome la Germania era condannata a rimanere divisa per 40 o 50 anni a un certo punto sono finiti i 40 anni e è crellato il muro e tutti hanno pensato che era una vittoria dei progressisti che buttavano giù il muro in realtà non ce n'era più bisogno allora io credo sinceramente che ci sia una delle cose più perverse che si possono operare sono gli aiuti penso il mio amico Monicelli mi diceva sempre Silvano se io avessi una badante o una moglie sarei già morto da 20 anni perché hai capito la badante aiuta il vecchio e si sostituisce lui lui porazio rimane lì così io ti ho avuto a forza di stare fermo e fa il cadavere perché non può fare altro allora io penso giustamente che felici non si può essere perché ci sono questi 35 mila bambini che muovi di fame tutti i giorni quindi uno non può festeggiare però serenici e la serenità va usata nella massima modestia a proporre un quadro di come si vorrebbe che fossero gli esseri umani per cui uno dice ma che strano quello lì in questo inferno di città demenziale dove muoiono 1200 persone al giorno a Roma però è un monosso di carbonio solo che moriranno fra 20 anni e quindi nessuno sarà colpevole in questa città terribile c'è uno che è sereno cosa ha fatto che cosa gli è successo niente gli è successo è successo che ha capito che l'essere umano è il massimo capolavoro che esiste sul pianeta e che quindi va valutato e rispettato come tale per cui quando viene qui una persona io vedo apparire non so la pietà di Michelangelo che viene qua da sola per essendo di marmo capito ecco allora sono anche convinto che siccome tutti i 7 miliardi di persone sono collegate fra di loro sintonizzando il proprio presente non più con la famiglia nucleare che come si sa è sede del 72% degli omicidi ma con la famiglia reale che è l'umanità se tu sei sereno paradossalmente questa serenità si comunica in modo se vuoi infinitesimale a tutti i 7 miliardi non di colpo pian piano siamo tutti connessi capisci il sapore della brezza che pian piano muovendo si va a risvegliare tutti i campi i fiori gli animali allora non è più tempo di intervenire dall'esterno sugli esseri umani quello l'ha sempre fatto il potere è tempo di intervenire all'interno di ognuno sull'insieme nei 7 miliardi al tuo interno tu comunichi la tua serenità e la tua serenità va a raggiungere tutto io ci credo io in queste cose credo e fra l'altro da quando io ho adottato un sistema che anche mi dà una grande serenità che consiste nel nascere tutte le mattine e nel morire la sera nel sombra e nel sorgere il giorno dopo con risveglio non portando mai più i bagagli del passato o le scatole vuote del futuro ma vivendo l'adesso l'adesso il tempo sacro della vita allora se tu ogni mattina nasci ogni sera muori infatti che in un anno sei risolto 365 volte competente col poro Cristo là che sei risolto una volta hanno fatto tutto il cerimone il risorgere diventa semplicemente un nuovo modo di nascere non nell'incoscienza ma nella coscienza del nascere allora Dio buono questa energia diventa enorme perché tu invece di andare lì a massacrare uno che già è depresso già è sposato già fuma già lavora nove ore al giorno a spiegargli come potrebbe essere l'umanità no io capisco che nell'insieme ci sono un sacco di gente che conosco che hanno preso coscienza voi perché sono andati a yoga e gli hanno spiegati che sono l'anima oltre al corpo e alla personalità e quindi la ricerca di quell'equilibrio di quell'unione del presente il il buddismo ha avuto un'onda di espansione tutta questa gente che fanno il mantra ma quella è un po' triste che uno sono alla ricerca che ora sono alla ricerca della liberazione il moshio ma il buddismo che è una cosa interessante è una parodia dell'infanzia e l'infanzia è molto più forte del buddismo basta che uno guardi un bambino da anni zero anni tre e capisci che cos'è la vita capisci come si fa a vivere senza farlo amare il mio chiodo io ti sto dicendo che c'è secondo me una buona massa di gente che aspetta delle conferme ma per fare cosa? per farsi ammazzare? no no per entrare nel suo sé quello che è ho capito ma prima deve aver mangiato e dormito bene te lo dico non esiste non esiste nell'affamato l'interesse a migliorare l'umanità esiste solo l'interesse a mangiare bisogna fare in modo che tutte le persone voi vivete in un mondo dove un miliardo di tonnellate di cibo viene buttato ogni anno vivete in un mondo dove ci sono 1800 navi buttate di frumento nell'oceano pacifico per tenere il prezzo alto capito? Dio buono allora se tutte le persone hanno da mangiare e da dormire dopo si incontrano dopo stanno insieme parlano tu però mi dici nascere al mattino o morire la sera quando si va a dormire risorgere il giorno dopo ma oggi in un mondo come quello di oggi come si riesce a far capire questa cosa poi alle persone ma non devi farla capire devi capire te io una volta che l'ho capito non devi far capire ma far capire che cosa condividere ma lo condividi nel momento noi adesso siamo qua no? e stiamo condividendo una serie di pensieri niente di nel senso una volta che tu hai capito questa cosa la tua sola presenza esatto porterà le persone a essere attirate dalla cosa per cui tu vuoi portare le persone capito? come farla vedere come farla vedere a chi ha davanti agli occhi un mondo che gli dice tutt'altro e tutti i giorni ma non è un problema tuo è il valore del messaggio che conta ti faccio un esempio mettiamo che tu adesso scopra che mangiando una melanzana una barbabietola e uno spicchio d'aglio non c'è la minazza di questa nuova epidemia che sta andando in giro mettiamo e mettiamo che sia vero io ti garantisco che se è vero nel giro di un giorno tutto il mondo lo sa non si sa come accade ma se è vero lo sa tutto il mondo così come tutto il mondo se uno trovava come si guarisse dall'AIDS in un certo modo lo trovava il trovarlo per dire che già tutto il mondo lo sa capisci devi avere una fiducia immensa in te secondo me il desiderio di riformare gli altri è un'ennesima fuga da se stessi di riformare gli altri di andare a evangelizzare cose capito in fondo in fondo perché Gesù Cristo l'hanno mandato in esilio in paradiso perché lui non lavorava mangiava passeggiava discuteva giocava a parte gli ultimi tre giorni lui ha avuto una vita veramente da babbo hai capito allora tu non vorrei delusarti perché il messianismo è una tentazione che ha allogorato moltissimi esseri umani in realtà tu non devi comunicare niente a nessuno altro che a te stesso e poi essendo quella cosa lì tu lo comunichi a sette miliardi di persone questo io veramente sono profondamente convinto come ogni cellula del nostro corpo in comunicazione con l'altro oggi secondo te è veramente possibile sopravvivere senza stare a determinate condizioni intanto sopravvivere è un destino miserabile che io non vorrei mai intraprendere semmai si tratta di vivere o esistere soltanto il potere fa esistere le persone perché ne ha bisogno non perché ne hanno bisogno nel momento in cui non ha più bisogno di persone il potere le fa fuori non è che gli dice prendete coscienza le fa fuori comunque è bello che ci sia questa situazione in cui queste cinque persone alle undici di sera invece di parlare della Roma della Juventus parlano di queste cose e già insieme a noi chissà quanti milioni di persone stanno parlando capisci bisogna avere una fiducia profonda nella propria immensità ma non con un individualismo sfrenato ma semplicemente ospitando dentro di sé l'essere umano che è davvero il massimo che ho voluto penso che io ti posso dire due cose adesso di te che tu dici ma non è possibile cioè tu la tua visibilità la devi alla somma di tutte le parti che ti compongono che sono invisibili ogni tua cellula è invisibile però la somma quanto pesi tu? 55 kg mettiamo 50 kg tu hai 50 mila miliardi di queste cellule sei fatta da 50 mila miliardi cioè è una popolazione immensa rispetto ai 7 miliardi del mondo 50 mila miliardi ognuno di questi 50 miliardi è invisibile ma la loro somma dà la tua visibilità sarà un mistero o no questo? infatti io ieri lì a questa conferenza ho fatto questa comunicazione che uno degli ostacoli maggiori alla comprensione del mondo è la divisione fra spirito e materia che non è né legittima né utile anzi è dannosissima perché se si vede te stesso come un insieme di parti invisibili si ha una percezione immediatamente spirituale di te se è invisibile più spirituale di così non esiste se invece uno analizza questo stesso fenomeno come un agglomerato c'è la fisicità del tuo corpo e uno dice ammazza questa è buona la materia la materia si è fatta di materia capisci ma non è vero né l'uno né l'altro è la stessa cosa tutto è spirituale e tutto è materiale come diceva il mio amico Daun Maurizio capito tutto è uguale a tutto e perché invece oggi ci si impersonifica solo in quello che si fa piuttosto che in quello che si ha ma perché l'umanità è a uno stadio ancora fetale non puoi pretendere da un feto di sapere non so se vorrà dipingere o vorrà fare l'attore capisci un feto il feto ha anche qualcosa di mostruoso anche questa società ha vaste caratteristiche di mostruosità voi vi mette in uno stato che offre i suoi figli un prodotto il prodotto li uccide capite ora come ho fatto a fidare di che cose c'è molta gente che ha staccato un po' la spina si è un po' smasriziata si sente un po' liberata dall'inganno ma in questo non è staccato la spina le dicevano fai fatto bene ma non sono solo e come i sognatori non si sono soli e tutta questa energia creativa che può produrre la visione della transizione potrebbe essere uno sforzo creativo di dare solo degli stimoli dare delle immagini come tu hai dato l'immagine dei bambini che a scuola sono nel parco e non nelle aule è già una visione che stimola e se domani ci fosse questa rivoluzione in cui l'organizzazione sociale sarà in comunità sovrani un tuo podcast in cui gli dai degli stimoli su come si possono inventare una scuola veramente che crei una generazione di uomini liberi non ci deve essere la scuola la scuola il manicomio non hanno diritto di essere la sostituzione della scuola con niente col gioco ecco non l'obbligatorietà io l'ho detto anche nelle scuole dei miei figli e poi anch'io ho fatto l'oscurio quando sono nato negli Stati Uniti avevo capito che la scuola è un condizionamento che crea con letti bianchi o con letti blu persone obbedienti rispettose autorità puntuali che si portano pure il lavoro a casa sostanzialmente il regime nel piano di sviluppo occidentale aveva bisogno di operai e di impiegati e sono andati avanti adesso la globalizzazione di quel modello sembra essere in recessione perché si sono accorti forse anche loro che non è sostenibile e quindi no no si sono accorti che la macchina non sciopera non viene pagata non si ammala lavora volentieri 24 ore al giorno e perché metteregli le persone che invece scioperano vengono pagate si ammalano lavorano mal volentieri più di tre robotiche hai capito non è che ma come vedete c'è qualcosa che sta accadendo al di là di tutte le intenzioni accade qualche cosa capisci e questo accadere si chiama storia la storia degli uomini non la storia del potere che è quella che si impara a scuola ma la storia degli uomini siccome siamo contemporanei la viviamo questa storia qualcuno sente il bisogno di partecipare lo so ma pensate che fino a 50 anni fa noi non potevamo riunirci qua perché passavo e chiamava la polizia la polizia veniva qua apri i documenti poi lo torturavano perché lui lo torturava lo torturava capite adesso adesso per questa libertà che noi abbiamo reale sono morte alcuni milioni di persone allora c'è un sotterfugio linguistico nella gestione della lingua che è terribile per esempio non vi siete mai chiesti perché le ultime due guerre veramente micidiali sono state definite guerre mondiali che non si è un po' niente mondiale la seconda è una guerra nazifascista dichiarata dai nazisti dai fascisti all'Inghilterra e alla Francia la prima era la guerra dell'Italia con l'Austria sostenuta dai francesi che aiutava dove sta sta guerra mondiale quando mai 240 paesi hanno partecipato alla guerra capisci però tutti dicono la prima guerra mondiale capito e nel linguaggio persino nelle piccole cose dove uno che è piegato tutto il giorno viene chiamato impiegato che vorrebbe dire che non è mai piegato invece lui è sempre il prenditore di lavoro viene chiamato imprenditore quello che non prende addirittura lui prende il lavoro e viene chiamato datore di lavoro non si sa perché però è come la banca che crea il denaro e poi lo presta insomma da niente comunque ragazzi io penso che c'è questa fortuna inestimabile che il lavorare 9 ore al giorno sta decadendo in modo definitivo noi siamo sono 40 anni per esempio io da quando sono scappato di casa e con questo vorrei concludere perché se no sembra veramente che stiamo a fare il talk show e quando sono scappato di casa 17 anni io ho cancellato tutte le norme perché le norme sono micidiali sono nato perché ti rendono normale invece le norme mi sono fatte quelle quattro regole che io spesso racconto che hanno prodotto per me una vita fiavesca le quattro regole erano quando avevo 17 anni che scappavo di casa una era non lavorerò mai più di tre ore al giorno piuttosto muoio seconda regola non umilierò mai una donna trasformandola in una moglie cosa ne sapessi io 17 anni di queste cose non lo so però le ho pensate e le ho messe in pratica e sono contento terzo che sono? e sono reali per me mi hanno creato una vita meravigliosa allora non penserò mai che esista lo Stato e che possa fare qualcosa a mio favore ultima regola che è quella davvero che vi stavo dicendo poco fa che è fondamentale adesso che sono libero voglio vivere in modo tale che se tutti vivessero come me il mondo sarebbe un paradiso questa qui è la regola fondamentale no? col tocco del proverbio che è molto interessante che dice comanda e fai da te sarei servito come un re invece del potere la potenza perché a me non va neanche di essere sottoposto al mio stesso potere io non voglio avere potere su di me voglio avere potenza in me capisci? detto questo tutto è molto più semplice perché tutto è circoscritto al tuo territorio e tu adesso quando esci che vedi una bella ragazza con la quale vuoi fare l'amore o le dici la solita banalità tipo perché non ci vediamo una di queste sere e con tutto il curriculum della mediocrità maschile oppure le dici senti ma è possibile quanto è che si potrà dire a te nel vederti ho avuto voglia di fare l'amore e perché non ci proviamo spiegami perché non ci proviamo o per provarci hai bisogno di pensare che io ti procuro finalmente l'appartamento il televisore la lavatrice e le pari salate capito? il coraggio di dire questa cosa e di renderla operativa e la ragazza acquista anche coscienza c'è falato in più c'è una cosa bellissima che le donne hanno bisogno fisiologico di fare l'amore con il partner sempre diversi più dell'uomo? come? più dell'uomo? o la stessa modo? ma l'uomo purtroppo è un luogo immenso ma è un luogo la donna è un abisso c'è questa diversità per cui e allora la donna cosa fa? sceglie di diventare affettivamente anoressica e come fa l'anoressica dice ma io se avessi fame mangerei ma non ho proprio fame perché è la malattia si autoconvince si autoconvince perché è più forte l'impulso della sopravvivenza perché lei deve pensare avere una casa mangiare e dormire se però lei ha da mangiare e da dormire non c'è più questo impulso profondo lo capisci che il 99% delle donne che si sposano lo fanno perché se no non hanno la casa non hanno la lavatrice non hanno le ciabatte lo capisci? allora se lei ha il suo luogo il suo da mangiare è tutto un altro mondo personalmente la cosa più grata da parte mia del destino è che ho avuto un'infanzia da morto di fame totale per cui per me qualsiasi forma di cibo è la festa più grande che ci sia capisci? è un'emozione che qualche volta produce persino la commozione e il pianto io non ho mangiato una mezza porzione di bucatini e la matriciana qui da vita il mafioso e mi ha rimesso in discussione l'esistenza di Dio per dire ecco dai ragazzi buonanotte andiamo a dormire buonanotte ci vediamo domenica prossima ci vediamo se siamo capaci di vedere se invece sei andato a scuola magari guardi ma non vedi come facciamo? è un bel problema grazie mille Silvio